Castrati, ultima della stagione regolare, con la Salernitana credo che sia la parola d'ordine, credo sia vietato fare passi falsi e centrare i play-off. Domani sarà una partita tosta come sono state tutte le altre e speriamo di ottenere il massimo perché dobbiamo blindare il quinto posto. Come sta la squadra, come ha vissuto questa settimana? Noi stiamo stati allunati sempre bene, speriamo di dare il massimo e di prendere più punti possibili domani. La Salernitana viene da un momento fortemente negativo, però è stato il ritiro, un nuovo allenatore, potrebbe cambiare qualcosa secondo te? Secondo me sì, perché con il nuovo allenatore possono dare qualcosa in più, la pressione sarà su di loro e sarà una partita tosta. Che partita ti aspetti? Una partita tosta come tutte le altre che abbiamo giocato fino adesso, perché non ci sono state le partite facili e dobbiamo stare concentrati fino alla fine. Guardate per chiudere anche un po' quello che succede a Palermo, nel senso attendete decisioni del giudice sportivo? Ma noi pensiamo di fare la nostra partita e non pensare alle altre cose. Se noi facciamo il meglio possibile, dopo vediamo cosa succede con il Palermo.